Come si dice che gli uomini hanno bisogno delle donne? Eh, non so, non c'è. Il mio è il classico. Fa una sedia. Vabbè. Ficca un pezzo. Si è fatto un pezzo. Ma comunque vedo tanto più schede, insomma. Chi è? Su, su, non mi fai. Ehi! Ancora più forte. Anche su. Rami! E' su, 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 e' su. E' forte, e' la porta. Ma non può funzionare. Allora, guarda che ti stiamo sionando. Ecco! E' la sionare delle viste. Beh, non c'è, non c'è, non c'è. Non c'è. Vai, vai! Spider-Man, ti c'è un uomo around. Spider-Man, più forte sei tu. Spider-Man, la tua catena. Spider-Man, ti vuole verso il suo. In un atto, in un atto, tu dai, tu dai, tu dai Nessuno lo scoluce, c'è un vinto che si sta in a te Spider-Man, tu sei un moragno, Spider-Man, il forno sei tu Spider-Man, tu l'hai cinque figli Spider-Man, il forno sei un moragno In un atto, in un atto, in un atto, tu dai, tu dai, tu dai, tu dai, tu dai In un atto, in un atto, tu dai, tu dai, tu dai Non c'è un vinto che si sta in a te Spider-Man, tu sei un moragno Spider-Man, il forno sei tu Spider-Man, il forno sei tu Spider-Man, non vuole cantela Spider-Man, il forno è su Non c'è la parola di città, sbagliata giù c'è la giù c'è la giù c'è la parola